Atto vile e senza giustificazione l'episodio che è accaduto sabato scorso presso il parco fluviale del Testene ad Agropoli. A raccontarlo è Gerardo Scotti, presidente dell'Associazione Genesi dell'Ambiente, che si occupa ogni giorno volontariamente, con tanta cura e delizione dell'aria e dei piccoli e grandi pennuti che da un anno popolano il fiume. Da tre giorni, scrive Gerardo, un gruppo di sei ragazzini intorno alle 14 vanno a fare visita ai cuccioli di anatre al fiume, portando avanti atti vandalici e tirando sassi alle piccole. Purtroppo cinque di questi cuccioli sono stati uccisi a sassate. Sabato sono stato lì fino alle 13 e 30, racconta Gerardo, ma non si sono presentati. Alfonso Fornaro, volontario dell'Associazione Genesi, si è recato presso il fiume per controllare e poco dopo sono arrivati anche un gruppo di ragazzini che hanno iniziato ad infastidire le anatre, ma quando Alfonso ha cercato di allontanarli lo hanno aggredito con un bastone. Solo alla vista di una signora, inquirina di una delle abitazioni che affacciano sul fiume, che ha assistito alla scena e che ha aggredato di chiamare i carabinieri, sono andati via. Conosciamo il gruppo di ragazzi, sottolinea Gerardo, e nei prossimi giorni faremo delle riprese e delle foto di questi futuri criminali e saranno denunciati alla caserma dei carabinieri. I ragazzi sono gli stessi che 20 giorni fa, dopo che qualcuno alla fornace aveva avvisato i carabinieri di atti vandalici, si sono dati alla fuga. Con molto dispiacere raccontiamo questa brutta storia, ma intendiamo tutelarci perché, anche se sono minorenni, hanno metodi da criminali navigati. Esprimo piena solidarietà ad Alfonso Fornaro, che ha subito questa aggressione vile mentre cercava di difendere gli animaletti. Quello che mi viene da dire è buio, ma faremo luce anche su questa vicenda. Abbiamo messo solo due foto degli animali morti perché gli altri, dopo essere stati ammazzati, sono stati siliziati con un rituale raccapricciante. Tanta la rabbia dei cittadini di Agropoli per quello che è accaduto e per il gesto compiuto dal gruppo di giovani e tanta la tristezza per ciò che è accaduto ai piccoli anatroccoli.